Vietare la caccia nella zona di San Giuliano-Madonna-Fore, zona molto frequentata dagli aquilani per le loro passeggiate, è la richiesta formale che il sindaco Pierluigi Biondi e l'assessore all'ambiente Fabrizio Taranta hanno fatto al presidente dell'ambito territoriale di caccia della provincia Diego Alessandri per escludere dalla pratica venatoria la zona che ogni giorno è frequentata dai cittadini aquilani e permettere a tutti di stare in sicurezza. Riteniamo una decisione necessaria che andava presa a Madonna-Fore e San Giuliano sono zone molto frequentate dagli aquilani, molto care, tanti vanno a camminare, a fare attività sportiva anche per rilassarsi un po' e andava sicuramente messa in sicurezza sia l'ambito della caccia, la riserva venatoria per poter svolgere l'attività in piena tranquillità, sia garantire la sicurezza di chi quotidianamente frequenta quelle zone. Questa promiscuità poteva diventare pericolosa anche a fronte di alcune zone che sono state interessate dagli incendi e che quindi sono chiuse, ha subito quell'aria notevoli cambiamenti, noi abbiamo ritenuto opportuno procedere con questa richiesta appunto per garantire la situazione di tutti coloro che frequentano quelle zone. In questi giorni abbiamo visto, insomma, molti si sono preoccupati anche per come poi i cinghiali potrebbero trovare in quelle zone che sono state escluse, che probabilmente verranno escluse dall'area venatoria, un rifugio ma questo può essere evitato tranquillamente con la caccia selettiva, quindi lì dove dovesse esserci la necessità, se ci sarà un proliferare di questi animali e la situazione dovesse diventare pericolosa, c'è questo strumento che permetterà in qualunque momento di procedere lì dove è necessario a degli abbattimenti selezionati per garantire l'incolumità e la sicurezza, ripeto, di tutti coloro che quotidianamente frequentano quei luoghi.